Buon pomeriggio, di nuovo ci salutiamo in questa fase per concentrarci insieme su quello che sarà l'apporto del marketing dell'innovazione nei vostri progetti. Voi capite insieme a me che partecipare a questi convegni, a questi momenti di informazione è un'opportunità importante che la Regione Umbria in collaborazione con Sviluppo Umbria e con la Fondazione vi sta offrendo perché insieme vogliamo creare l'ecosistema dell'innovazione. E quindi partiamo da questi momenti che sono fondamentali, concreti, che vedono nascere il rapporto fra pubblico e privato costruendo insieme oggi una base che sarà certamente lo sviluppo di future opportunità. Ho l'occasione in questo momento di potervi anche presentare l'operatività di Sviluppo Umbria. Vorrei farlo perché siete una platea importante di imprenditori, di giovani, di innovatori e dovete ben comprendere qual è il ruolo dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico. Fra l'altro colgo lo spunto dell'assessore Tioroni, il quale dice che bisogna fare le cose bene ma anche comunicarle bene. E quindi in questo momento io sto facendo del marketing per la nostra agenzia perché voi possiate comprendere efficacemente qual è effettivamente il risultato, qual è l'impatto di quello che oggi sta mettendo in piedi Sviluppo Umbria per la nostra regione, per la nostra comunità. Sviluppo Umbria oggi insieme all'assessorato di Michele Fioroni ma anche insieme all'assessorato di Paola Gabiti ha rivisto la propria mission. Oggi Sviluppo Umbria si occupa di internazionalizzazione, innovazione, oggi siamo qui proprio per questo ambito, di attrazione degli investimenti, di promozione del turismo e di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Questo lo fa attraverso un team che voi avete conosciuto in parte ma ci sono molti funzionari che si occupano di specifiche che vi ho appena annunciato. Nelle tre sedi in Umbria, le tre sedi di Sviluppo Umbria sono a Perugia, a Termi e a Foligno e la sede di Termi hanno delle specifiche interessanti anche per voi perché sono i nostri incubatori regionali. La sede di Foligno oggi ospita 14 imprese e ovviamente è a vostra disposizione laddove vogliate immaginare o pensare di aver bisogno di un luogo dove poter fisicamente essere accolti e continuare a sviluppare le vostre idee ma anche la sede di Termi è un incubatore importante che vogliamo rilanciare e lo vogliamo rilanciare specializzandolo sul tema della sostenibilità. Quindi per il tema di oggi io mi sono resa conto che è stato uno sforzo notevolissimo che questa giornata è il risultato dell'incontro di tante menti e di una grande forza di volontà che da oggi parte e si vuole concretizzare strada facendo. Questo è importantissimo nei numeri perché per una regione come la nostra per una regione che ancora è acerba nella costruzione del proprio tessuto produttivo in termini innovativi ma che ha grande potenzialità anche perché si tratta di una regione piccola e quindi può veramente essere un laboratorio di innovazione a livello nazionale e per questo i risultati delle vostre idee oggi che avete presentato mi sembra di ricordare sono 22 progetti sono significativi, molto significativi. In questi 22 progetti il 36% mi sembra di ricordare proviene dall'area del Ternano ed è anche questa una notizia molto importante che noi vogliamo seguire con cura e inoltre la componente femminile perché ho visto che 8 progetti su 22 hanno una partecipazione femminile nella propria compagine sociale quindi questo significa che ci sono giovani, che ci sono donne, che sono motivate, che si sentono di poter offrire la propria iniziativa con il supporto delle istituzioni e oggi questa importantissima collaborazione è fondamentale è fondamentale per raggiungere insieme l'obiettivo come dicevamo questa mattina quindi io chiudo e mi tratterò a sentire la relazione del professore perché ho veramente voglia anch'io di far parte insieme a voi di questo percorso, di crescere insieme a voi e di potermi concentrare sullo sviluppo di tutte le nostre progettualità che faranno dell'Umbria un territorio e un sistema dell'innovazione che sarà ad esempio a livello nazionale. Quindi grazie. 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 Grazie.